Al Fioroni di Ellera il finale tra Corciano e Macchie è di 3-0 per gli ospiti che con un superi Senai si portano a casa la nonna vittoria stagionale ad Agni del povero Corciano che ormai dopo 62 gol subiti arriva alla ventunesima sconfitta con entrambi i piedi nella fossa. Al primo di gioco subito i Senai mette in difficoltà l'unica risponde presente devia in corner Macchie che scende in campo con un 4-2-3-1 con Paribocci in porta l'una Bistonio para e Fiora a comporre il reparto difensivo Cardinali e Silvestri in cabina di regia Fratini sulla tre quarti Mezzanotti e i Senai gli esterni a leggere Favaroni unica punta. Al settimo di gioco subito avanti gli ospiti con Favaroni che su un assist al bacio di Senai supera l'unica in semirovesciata e fa 1-0 Macchie. La squadra di Mister Roscini scende in campo invece con un 4-4-2 con l'unica fra i pali, Ginocchini, Ceci, Ovusso e Gemito in difesa, Priore, Ricci, Zappate e Manganello a comporre il centrocampo e Cellini e Marzano nel tandem di attacco. Al quarantatresimo sempre solo Macchie con Favaroni che si libera benissimo dalla marcatura e lascia partire un destro che colpisce il palo e arriva ai Senai che però viene pescato in fuorigioco dal fischietto di Foligno. Ancora Senai nell'azione seguente quando in 2x2 con Alunni spara addosso all'estremo difensore e ospite sprecando la possibilità di portarsi sulle lunghezze di vantaggio. Con le riprese del montaggio di Roberto Ragni passiamo alla seconda frazione di gioco. Al primo della ripresa il solito di Senai va vicinissimo al gol del raddoppio ma il suo tiro si spegne sul fondo. Al nono Senai trova la gioia del gol con un'azione personale che parte dalla sinistra, si accentra e si rilazza il quindicesimo gol stagionale. Meraviglia di Senai al tredicesimo che fa 3-0 Macchie con un gol semplicemente favoloso, palla che si inzacca dove Alunni non può arrivare. Al venticinquesimo finalmente il Corciano si affaccia dalle parti di Parivocci con Marzano che però complice una deviazione e spara addosso al portiere. Girandola di Cambi per il Macchie che al tredunesimo della ripresa sostituisce Favaroni per Bussolini. Il finale tra Corciano e Castiglionese Macchie dopo 3 minuti di recupero è di 3-0 per gli ospiti con la rete di Favaroni e l'ospetta di Senai, sicuramente il migliore in campo dei suoi. Corciano che non impenserisce quasi mai Parivocci non creando alcuna palla gol. Dobbiamo solo gestire queste giornate che arrivano alla fine con questi ragazzi, c'è da fargli solo un pregio che in parte noi abbiamo ragazzi che si allenano, non siamo più di 7-8 ad allenamento, quindi complessivamente è in gruppo rimasto dei 12-13 ragazzi, soprattutto sono tutti come avete visto il 2000, 99, 98, il più vecchio è 97, quindi dobbiamo solo gestirla un'annata nata storta e finisce peggio. Con totale tranquillità no, è chiaro sono partite difficili per un certo verso, è chiaro una volta sbloccata diventa più semplice, però sapevamo che non era facile e per noi comunque si erano punti diciamo molto importanti vista la classifica che si era un attimino accorciata, quindi bene così va bene così.